Allenamento completo e impegnativo per tonificare braccia, spalle e petto, tempi alti, brevi pause ed esercizi con difficoltà crescente. Vamos! Vamos! Ok, iniziamo, spinte dietro, iniziamo subito con il riscaldamento, parte alta e parte bassa, prima di iniziare questo workout. Vamos! Vamos! Inizio subito con la respirazione, naso, bocca, inspiro col naso, espiro con la bocca, 3, 2, 1, cambio, incrocio orizzontale, vai, piego leggermente le gambe, incrocio orizzontale, sopra e sotto. Scaldiamo bene le braccia, le spalle, tutta la parte alta, vai, respiro, 3, 2, 1, discesa sui fianchi, vai, altezza ginocchio, senza forzare, attiviamo l'addome, scaldiamo bene tutto il corpo, prima di iniziare il workout, vai, discesa, discesa, e respiro, e respiro, 3, 2, 1, tocco spalle, vai, tocco e salgo con le mani, tocco e salgo con le mani, scaldiamo bene le spalle, le braccia, gomiti, vai, Prima di iniziare questo super workout con i pesetti, vamos, 3, 2, 1, cambio, torsione del tronco, piego le gambe, torsione senza forzare, destra e sinistra, vai, respiro, Sempre in respirazione, attiviamo il tronco, 3, 2, 1, vai, 2 toccate e 2 circonduzioni in avanti, pam, pam, e 2 circonduzioni in avanti, vai, tocco 1, tocco 2 e 2 circonduzioni, scaldiamo bene, vai, respiro, 3, 2, 1, recupero, andiamo a prendere i pesettini, iniziamo subito con picipiti alternati, 3, 2, 1, vai, piego leggermente le gambe per non scaricare sulla schiena, alternato, prima da una parte e poi dall'altra, testa dritta, lavoriamo sulle spalle, sulle braccia, vai, porto il peso vicino alla spalla, attiviamo il bicipite, 10 secondi ancora, vai, prima da una parte e poi dall'altra, respiro, 3, 2, 1, vai, recupero, alzate laterali, gomito a 90, 3, 2, 1, vai, blocco i gomiti e salgo, movimento lento, controllato, altezza delle spalle e scendo, testa dritta, mantengo la respirazione, vai, lavoriamo sulle spalle, isoliamo i deltoidi, vai, ancora, respiro, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, bicipiti frontali, salita, fino al gomito, parto da giù, 3, 2, 1, vai, salgo insieme, blocco e scendo, salgo insieme, blocco e scendo, vai, respiro, controllo il movimento, il gomito vicino al corpo, salgo e scendo, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, esercizio successivo pectoral, gomiti in linea con le spalle, 3, 2, 1, vai, apro, mi raccomando la tecnica dell'esercizio, i gomiti sono in linea con le spalle, addome contratto, testa dritta, vamos, respiro, apro, respiro e butto fuori, vai, sempre respirazione attiva per non andare mai in affano, 3, 2, 1, sciolgo, bicipiti frontali, discesa fino al gomito, partiamo dall'alto, 3, 2, 1, vai, scendo a metà gomito e salgo, respiro, vai, scendo a metà e salgo, respiro, respiro, non mi fermo, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, sciolgo, tricipite un braccio, con la mano in appoggio sul gomito, 3, 2, 1, vai, distendo, controllo il movimento, braccio piegato, mano in appoggio sul gomito, respiro, distendo completamente il braccio, vai, ancora, mantengo il ritmo, non mi fermo, gambe leggermente piegate, vai, distendo il braccio completamente, 5, 4, 3, 2, 1, scarico, lavoriamo dall'altra parte, sempre tricipiti con un braccio, 3, 2, 1, vai, distendo, respiro, distendo bene il braccio e ritorno, distendo il braccio e ritorno, vai, respiro, respiro, distendi e torna, attiviamo il tricipite, ancora, vai, distendo, braccio in assistenza sul gomito, vai, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, e sciolgo, riprendiamo l'altro pesetto e ripartiamo con bicipite più spinte in alto, 3, 2, 1, vai, bicipite, giro e spinte in alto, vai, sincronizzo bene il movimento, lavoro in modo lineare, respirando, controllo che il movimento sia all'unisiono, vamos, vai, insieme, salgo e scendo insieme, addome contratto, 5, 4, 3, 2, 1, e pausa. Ok, ripartiamo, bicipite a martello con la rotazione, vado con la rotazione e porto il peso verso la spalla, addome contratto, sempre respirazione attiva, blocco il gomito vicino al corpo, vado con la rotazione e scendo, rotazione e scendo, mantengo il ritmo, addome contratto, non uscilo col corpo, vai, 3, 2, 1, recupero attivo, tricipiti doppia mano, prendo solo un pesetto, 3, 2, 1, vai, salgo e scendo, blocco i gomiti, ok, e lavoro in spinta, spingo e distendo, spingo e distendo, piego leggermente le gambe, testa dritta, mantengo la posizione e lavoro, attiviamo i tricipiti, vai, e respiro, e ancora, vamos, vai, distendi, 5, 4, 3, 2, 1, riprendiamo l'altro pesetto, pectoral più spinto, 3, 2, 1, vai, i gomiti in linea con la spalla, vai, gomiti in linea con le spalle, movimento pectoral e spinte, vai, pectoral, chiudo, spinta in alto, pectoral, chiudo, spinta in alto, vai, respiro, mantengo il ritmo, non mi fermo, vamos, pam, pam e su, pam, pam e su, dai, 3, 2, 1, ok, pausa, vai, ripartiamo, bicipiti e spinte in alto, sincronizzo bene e separo bene i due movimenti, vai, bicipiti, salgo insieme, giro e spinte, addome contratto, testa dritta, vamos, respiro, gambe leggermente piegate, così non scarichiamo dalla schiena, vai, resisto fino alla fine, vai, braccia e deltoidi lavorano in questo esercizio, 3, 2, 1, recupero attivo, tricipiti doppia estensione dietro, piego leggermente le gambe, 3, 2, 1, blocco il gomito e spingo dietro in distensione, vai, vai, testa che guardo per terra, addome contratto, blocco il gomito e lavoro con la doppia distensione, vai, e respiro, attiviamo il tricipite, ancora, fino alla fine, vai, vai, blocco il gomito e distendo, ancora, vamos, vai, 5, 4, 3, 2, 1 e recupero, respiro, sempre sulla posizione delle distensione rematore, 3, 2, 1, vai, il rematore, vado con la spinta dietro, vai, tiro, lascio, tiro, lascio, mantengo il ritmo, attiviamo i muscoli dorsali, facciamo lavorare la schiena, vai, vai, respiro, ancora, non mi fermo, sempre respirazione, naso, bocca, ancora 10 secondi, vai, 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 3, 2, 1, pausa e prendiamo il tappetino. Ok, ripartiamo, mobilizzazione della colonna, posizione di quadrupedia, vai, lentamente, butto fuori e in arco, butto fuori e in arco, respiro, 3, 2, 1, cambiamo in push up, salgo, scendo e spingo, braccia parallele alle spalle, addome contratto, non cedo con il bacino, vai, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ci giriamo schiena a terra, pesetti e andiamo con apertura più rotazione, vai. Salgo e rotazione, salgo e rotazione, addome contratto, schiena ben aderente a terra, piedi in sicurezza, bene appoggiati, vai, prendo aria e butto fuori. Mantengo il ritmo, respiro, 3, 2, 1, recupero attivo, sempre su questa posizione, cambiamo, sempre esercizio per il petto macro, 3, 2, 1, vai, senza rotazione, braccia in linea con i pettorali, apro, prendo aria, chiudo, butto fuori, vai, respiro, non mi fermo, ancora, ancora, vai, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, sempre su questa posizione, tricipiti da terra, 3, 2, 1, attenzione, gomiti bloccati, lavoro con l'avambraccio, distendo e ritorno, distendo e ritorno, attiviamo i tricipite, vai, mantengo il ritmo, non mi fermo, respiro, addome contratto, schiena a terra, 10 secondi, vai, vai, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, pausa, sempre con rotazione. Ripartiamo, vai, spinta con rotazione, scendo, salgo, rotazione, chiudo, scendo, salgo, rotazione, e chiudo, respiro, respiro, mantengo il ritmo, non mi fermo, vamos, 20 secondi, non ti fermare, controlla il movimento, mantieni attiva la respirazione, vai, rotazione, rotazione, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, ci giriamo e attiviamo il push up, 3, 2, 1, vai, parto da terra, addome contratto e spingo, vai, mantengo il ritmo, salgo e scendo piano, aggiusto bene le gambe, gluteo contratto, respiro, scendo e voto fuori, vai, ancora, vai, 3, 2, 1, recupero, da questa posizione facciamo la mobilizzazione per la colonna, posizione di quadrupedia, 3, 2, 1, vai, voto fuori e in arco, attiviamo l'allugamento per la schiena, ancora, vai, 3, 2, 1, recupero attivo, ci mettiamo seduti, posizione Buddha, 3, 2, 1, stretching spalla sinistra, vado con braccio teso, con la mano spingo leggermente sul gomito verso di me, senza forzare, mantengo lo stretching della spalla sinistra e respiro, 2, 1, sempre sul braccio sinistro lo porto dietro e facciamo l'allungamento per il tricipite, assisto con l'altro braccio sul gomito, respiro, 10 secondi in posizione e poi facciamo lo stretching sulla parte destra, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, vai, stretching sull'altra parte, nel mio caso la destra, mantengo la posizione, avvicino con l'altro braccio sul gomito leggermente verso di me, tengo l'allungamento per la spalla, 3, 2, 1, cambio lentamente, sempre stesso braccio dietro, accompagno con l'altra mano il gomito, senza forzare, mantengo la posizione dello stretching e respiro, 5, 4, 3, 2, 1 e lascio, ok, il tuo workout è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, vamos!